Caragosta, champagne, caviale. Niente male per una persona sola. Mi scusi, è per due, c'è anche l'ingegnere, no? Quale ingegnere? Il suo fidanzato. Senta, lei si sbaglia, non sono la signorina Rosa Orlando, ma sua sorella Viola. E io sono suo nonno. Non faccialo spiritoso, per favore. Non facciamo scherzi, piuttosto. Sono 40 anni che faccio questo lavoro e so come si fa per non pagare il conto. Se crede che io le restituisca la valigia, si sbaglia di molto. Perché? C'è una valigia? Sì, c'è anche una valigia, non lo sapeva. La valigia della signorina. Ha visto che freni, comendatore? Oè, cari ingegneri Ghislenghi, permetta che le presenti il comendatore Colombo, delle concerie.